Bentornati a tutti sul nostro canale Oratube. Questa per me è l'occasione di raccontarvi un po' quello che accadrà la prossima settimana, che per noi è la settimana dell'oratorio, nella quale trova spazio la festa dell'oratorio. Come sempre, come ogni anno, saranno numerose le proposte, le attività. Bellissimo è già dire che un numero elevato, molte persone si sono rese disponibili per dare una mano, sia nella fase preparatoria come anche nella realizzazione. Che cosa accadrà? Cominciamo dal lunedì sera, dove noi proporremo un saggio dell'associazione Espressioni del Corpore, quindi danza, giovani, scattanti, frizzanti, sarà un bel momento per raccontarci la bellezza dell'essere giovani. Martedì e mercoledì due serate dedicate allo sport. Martedì con un mini torneo di calcio e di basket, la presenza del Realleno e anche di altre persone che ci daranno una mano per il basket e il mercoledì sera invece avremo la presenza della palla a mano, anche qua un mini torneo e anche della pallavolo, serate dedicate allo sport. Il giovedì sera sarà per noi la presentazione ufficiale del Grest quest'anno, dedicato, anzi, che ci vedrà proporre diverse attività attorno alla figura del Re Davide, secondo il cuore di Dio. In quell'occasione, giovedì sera, il 22, oltre che a presentare le attività del Grest, consegneremo anche le magliette e racconteremo un po' quello che avverrà nelle tre settimane, che a partire dal 3 luglio ci accompagneranno in questa grande e bella attività dell'oratorio. Venerdì, sabato e domenica, diamo spazio a serate danzanti. Avremo uno spettacolo itinerante il venerdì sera, molto interessante, ve lo suggerisco, a partire dall'ora 21, a cui seguirà poi Musica anni 60. Le ultime due serate di sabato e domenica le lasceremo per le serate danzanti. Il sabato sera il nostro amico Giampi, con la sua associazione doppio passo, ci alietterà con un po' di danza, un po' di latinoamericano, un po' di danza classica, vari generi. Mentre domenica sera daremo spazio al liscio, così che anche le persone che hanno un'età più importante potranno essere soddisfatte nelle loro esigenze. Una variazione rispetto allo scorso anno è che quest'anno l'elemento più importante, che per noi è la Santa Messa, l'abbiamo spostato dal giovedì sera alla domenica mattina. Quindi ci troveremo in oratorio domenica mattina alle ore 10 per la celebrazione della Santa Messa. È chiaro che in tutte le serate è possibile avvalersi dello stand gastronomico, quindi a partire da un fast food nei primi giorni si passerà poi ad una vera e propria ristorazione negli ultimi quattro giorni, dal giovedì alla domenica. Ci sono anche altre realtà e altre proposte che verranno messe in calendario durante la settimana dell'oratorio. Per esempio potrete visitare una mostra fotografica nella stanza dell'Aula Verde, dove ci sarà una sorta di salto nel passato, dove andremo a ripercorrere e rivedere alcune esperienze che hanno segnato la vita del nostro oratorio anni fa. Altre proposte sono Photobox, che è nient'altro che l'opportunità di farci scattare una fotografia simpatica e questo è un contesto dove chi partecipa potrà anche vincere a messe in paglia o qualcosa. Quest'anno, prima volta, la festa dell'oratorio utilizza materiale compostabile, quindi tutti i discorsi legati a plastica, smaltimento e rifiuti verranno affrontati in modo differente. E' per dare un segnale importante alla tutelata del creato, alla salvaguardia del creato. Vorremmo lanciare questo messaggio così che possa essere magari l'opportunità anche per le altre feste per utilizzare materiali che siano compatibili con un riciclo naturale delle cose. E come ogni anno abbiamo anche la pesca di beneficenza e il mercatino della pittura di cucito. Altro progetto interessante, troverete per questo un logo e spiegazioni sul sito, è Tutti sotto un tetto. Che cos'è? E' un progetto che destina e impiega le risorse che verranno raccolte dalla festa dell'oratorio per sostenere le spese per il rifacimento del tetto d'oratorio. Quest'anno questa parte dell'oratorio ha avuto un intervento notevole per riparare quelle che erano perdite consistenti che creavano proprio per il nostro oratorio. Quindi ogni anno noi destiniamo delle risorse per alcuni progetti particolari. Quest'anno quello che richiederemo da questa festa verrà destinato per sostenere queste spese. Quest'anno un gruppo di giovani si è reso disponibile anche per gestire l'area dei giochi con i gonfiabili, con un parco di macchinini e trattori, con un calcio balillo umano. Quindi daremo spazio ai ragazzi perché possono essere anche in questo caso protagonisti nel dare una mano alla festa dell'oratorio. Per chi volesse informazioni ulteriori può sempre fare riferimento al nostro sito oratorialeno.it e per chi volesse mantenersi in contatto in tempo reale con i nostri social può utilizzare l'hashtag FO17 Ciao a tutti e buona festa dell'oratorio!